BELLO A TUTTI DA PORKMOTS 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 Voglio vedere Ma così poco potente Ok terzo round Allora Io ho visto solo oppressor E la macchinetta L'altra rica che non mi ricordo come si chiama La tampa è possibile Ok Ehi ehi Ma che mi è passato davanti Mentre attivo il turbo Ok Disgrazietta Disgrazietta Abbiamo colpito il paletto alto Della parte dove si distrugge rica Allora Scusate la poca concentrazione ma Colpici acceso Gli S5 è acceso La mia stanza è un fornellino È veramente un fornellino la mia stanza rica Noi ci riusciamo a concentrare lo stesso Ah Gabri Vai 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 Gabri Vabbè Ti ringrazio Però non so stavolta volevo cambiare tipo Ma chi Gabri ma il prestolino ha mai dato Ok Via Allora Lion Black Stavolta deve essere Arato Arato rica Dai rica L'ho preso L'ho preso rica Guardati Quanti ne ha sfiorati Oh rica l'ho preso Avete visto l'esplosioncina? Rica c'era l'esplosioncina? C'era c'era Aspettate sono in due con l'ho preso rica Dai rica Ce la farò 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 Una battaglia veramente Complicata rica Mamma mia Sto frontale è però pericoloso Allora vediamo se riusci a amare qualcuno qui C'è qualcuno Non vedo nessuno Un Leonardo Uh armato Leonardo Sì Leonardo Arato Idrx piccolo Idrx Piccolo Idrx Arato Arato Allora C'è un po' di gente che mi segue Mado Cosa abbiamo rischiato Raga c'ho due presso il contro Due Rai vabbè in seguito Come faccio raga Mamma mia L'avevo preso eh Ho sentito di nuovo qualcosa di strano Mado Poteva stare più dritto Dov'è 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 l'altra raga Dov'è l'altra raga Dov'è l'altra raga Seguo No Ok l'ho visto Eh non credo che farò molto raga È vero Un'altra piccola kill Vado con il minigun Con il minigun Con il minigun Non ce lo io credi Pericolosissimo Quel minigun Raga Non lo so cosa fare Eh noi lanciamo Missile a ricerca Sicuro Mancano pochi secondi Non possiamo fare Assolutamente niente Ti metto qua dentro raga No Venite 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 Non ci voglio credere Fabbie Dovevi venire Non dovevi scappare Ok Quarto round Allora LTS è complicato Veramente Complicato Soprattutto con questo oppressor Che L'avevo colpito Però Al quanto pare Non basta Cioè ci vogliono più colpi Poi me l'ho pure inceppato Che pensavo Che il C4 Stava all'altra parte Raga Non chiedetemi niente Per favore Assolutamente niente Ok Non ti ribaltare Cortesemente Non ti ribaltare Però il minigun È un minigun Regà È un qualcosa di buono Oddio Ok Bravo Il 620 Ci dà una mano Ci serve una mano Qui Allora Quelli gialli Sono nemici No Che è tutto Dario Sergio Si Vieni qua Dario Vieni qua Dai È un po' più bassa La mira Raga Non si abbassa Niente kill Lo so Ok Arato Arato Raga Scusami Dario Allora C'è qualcuno Che sta fuori LTS Quanto sono alti muri Sono altissimi Come ha fatto a finire fuori Dov'è Ah l'ha narrato L'ha narrato L'ha narrato Assistita Aspettate Manca solo Leonardo Sì Ottimo Raga Questa è round Very good Vieni 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 Crazy Mamma mia Che bella kill Fantastico Round vincitore Prossimo round Ok Nuovo round Allora È il quinto Quindi che vince questo Vince tutto Raga Concentrati Cortesemente Super Mega Concentrati Ok Vieni con me Lo ries No ma l'ha parito No Regà Non ce la faccio No Gabri C'ho tutto E due No No Vai Vai te Gabri Ripariamo Almeno Sta macchina Gabri Gabri Siamo nei casini Se non riusciamo a mettere No Gabri Perché sei sceso Una motivi rigida Vabbè Comincia veramente mali Tre kill Tre kill Regà Questo Questo Non doveva accadere Non doveva accadere Nel modo più assoluto Regà Ok Chi vince questo Vince tutto Regà Chi vince questo Vince tutto Perché non è giusto Quello che è accaduto Io annullerei Tutte le kill Ah no Non le annullo Dai Vabbiamo Vinciamo Vabbè Vinciamo Io non annullo Più niente Regà Ok Senti Sei ci siamo Tutto mio Queste kill Stavolta Tutte mia Regà Tutte Esclusive Per il suino Regà Oh madre mia Che 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 Mamma mia Gabriciotto T'ho preso Gabriciotto Un'altra botta Mamma mia Esplodi Non ci voglio Credere Gabriciotto No pure 620 No Moretti Dammi una mano Mi serve Una piccola mano Come possiamo fare Regà Pugirato Sempre Arrivo Arrivo Mamma mia Cabri 18 Questa è una kill Meravigliosa Succulenta Che kill Un'altra kill Succulenta Su 70 Per favore GTA Poi posso andare a dormire Mamma mia Adormi tranquillo GTA GTA Quasi distrutta Quella di 70 Mia 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 70 Me l'ho preso No 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 Vieni qua Vieni qua Dove sta Che battaglia Ma presa a me forse No Riga no no dai era finito Era quasi finito Spero che vinceremo almeno questo round Riga Iron Black Ammi insilata Dai Riga ma quanta vita aveva Ti fumava pure la moto Ma sapete che tanto abbiamo vinto Perché mancano Pochi secondi Ok ok la macchina Iron Black sposto La macchinetta Eh la io non te l'avevo detto Te l'avevo detto Ma andate abbiamo vinto lo stesso Dipende quante kill ha fatto lui 3 non 5 Sì 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 Vinciamo vinciamo tranquilli Guarda pure l'ultima Abbiamo vinto per miracolo Perché se faceva un'altra kill ancora Ho perso Comunque sia Se vi è piaciuta la mystery box di GTA 6 Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Che bello Che bello E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo